Bozzo non è stata una gara facile, lo sapevamo e poi si è dimostrata così. Credo che anche in merito agli avversari che hanno saputo chiuderci tutti gli spazi, soprattutto nel primo tempo. E quando noi provavamo magari a guadagnare un po' di campo alzando tanti giocatori, poi era normale che rischiassimo e concedessimo a loro di ripartire e di controattaccarci. Abbiamo avuto qualche occasione noi, l'hanno avuta loro. E poi nel secondo tempo, nel momento in cui siamo riusciti a fare gol con Marco, chiaramente la gara ha cambiato inerzia, noi abbiamo giocato un pochettino più di rimessa, di contropiede, loro si sono aperti un po' di più, abbiamo avuto un paio di occasioni e siamo poi stati bravi a chiudere la partita e a non soffrire fino all'ultimo minuto. Siamo in buona forma nei ultimi paesi, abbiamo scoperto 7 gol in 3 paesi, abbiamo vinto 9 punti e non abbiamo ricevuto un gol. Sono dati e sono statistiche che danno merito al lavoro che i ragazzi stanno facendo e che stanno continuando a fare. È chiaro che questa di oggi è una partita diversa rispetto a quella con il Goriza, è una partita diversa rispetto a quella con la Dinamo e con il Varazin, perché l'avversario era diverso. Noi, secondo me, siamo stati bravi, calmi, attenti, nonostante le ultime partite sia un po' più complicato giocare, sia un po' più difficile magari recuperare. Poi la cosa positiva, come capita spesso, è che i giocatori che entrano dalla panchina ci danno sempre una grande mano. E oggi sono molto felice, soprattutto per Marin Iacolis, perché si meritava di essere il protagonista e mi fa molto piacere, soprattutto che abbia trovato il gol. Io lo considero un giocatore offensivo, quindi quando un attaccante fa gol, secondo me è la miglior medicina che ci sia. Quindi sono molto felice per lui. Ora abbiamo il ultimo match della season, contro la Lokomotiva e la Poliud. Cosa aspettiamo in questo match? È molto importante per noi. C'è una mentalità molto forte, è una squadra molto unita, una squadra che ha grande orgoglio e quindi sono convinto che prepareremo bene, come abbiamo fatto ultimamente, anche la prossima partita, rimanendo sempre concentrati su quello che dobbiamo fare noi, perché la Lokomotiva è una squadra ostica, una squadra difficile, una squadra che ha bisogno di punti e quindi sappiamo che sarà un'altra gara assolutamente difficile.